Mazzangolla, ieri, ieri? Come l'ho fatto? Non c'erano sempre con me? Stavo a metà posto dei medici? No, io mi chiedevo solamente tu come fai a sentire quando parliamo noi che sei a un chilometro, eh? C'ho dote naturale io. Che hai fatto stamattina qua? Che hai fatto? Sono andato a fare le inizioni, sono andato a fare le modemodlisse, sono andato a fare le medicazioni. E ora dove devo andare? O che devi andare a fare le culo devi andare? A quello lei! Che? Oh, oh, oh! Ma lì... Oh, oh! Oh, scusorale, mi sono sbagliato. Credevo che la suora era lei, invece era lui. E' un caverdono! Ecco, se lo porti via. Se lo porti via, se lo porti via, se lo porti via. Ma poveraccio, di questo passo gli farà un mazzo così. Meglio, così ti fa da controllo con quell'affare cinesi che c'è davanti. Lui di sicuro c'è almeno 20 centimetri.